Continua con successo la mostra Le Rose di Redutè, presente al Museo Civico d'Arte di Palazzo di Chieri in corso Vittorio Emanuele fino al 30 novembre. Promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Pordenone, in collaborazione con lo studio bibliografico Duilio Contin e con l'Associazione La Compagnia delle Rose, la mostra presenta stampe originali e altre riproduzioni iconografiche tratte dai volumi di Pierre Joseph Redutè, considerato notorità nel campo della riproduzione iconografica delle rose. La cultura della rosa apre tutta una serie di incontri e approfondimenti che ci porteranno molto lontano. Iniziamo stasera a trattare un tema molto affascinante, penso soprattutto per la storia economica, sociale e culturale del Pordenone, che è il tema, la decorazione della rosa nella ceramica Galvani. Sappiamo che la grande storia di questa produzione ceramica, che è durata più di due secoli, è conservata in gran parte nelle nostre collezioni, c'è un vincolo di dichiarazione di interesse nazionale su questo fondo e siamo ben felici anche di mostrare, accanto alle rose del Redutè, anche le rose dipinte dalle tante donne, da tante mani femminili di più generazioni pordenonesi, qui sulle ceramiche Galvani per l'occasione esposte. La mia presenza questa sera è legata all'utilizzo del simbolo della rosa Galvani all'interno della comunicazione legata al rosetto Mira, che ho progettato nel 2010 e appunto è il logo di questo rosetto che sito in Parco Galvani, quindi è legato alla famiglia Galvani e al simbolo di questa rosa che ricorre nelle ceramiche. Grazie a tutti.